ho deciso di partecipare a questo progetto di volontariato prima di tutto per mettermi in gioco il progetto era in slovenia a lesce il progetto è durato due mesi e in questi due mesi abbiamo fatto tante attività principalmente di lavoro pratico e manuale che poteva essere dal costruire una casetta per gli uccelli al costruire il recinto per le bici dall aiutare l'allevatore a ripulire il giardino ho deciso di partecipare a questo progetto perché volevo provare una nuova esperienza vedere come sarebbe stato in primis vivere all'estero e con altre nove persone e in secondo luogo anche per mettere in gioco me stesso grazie a malica ho conosciuto questo progetto in particolare per per partire in slovenia l'aiuto per capire un po come come funzionava quelle erano le attività che si sarebbero svolte lì in primis ho imparato a convivere con nove persone in secondo luogo a rapportarmi ad altre culture diverse altri punti di vista diversi ricercando un dialogo un dialogo che non fosse comunque conflittuoso un tipo di dialogo che fosse aperto un confronto in terzo luogo lavorativamente parlando ho imparato sostanzialmente una serie di attività pratico manuali che in precedenza avevo svolto sì ma non in maniera diciamo approfondita non in maniera duratura non in maniera settimanale è uno dei principali ricordi preferiti è legato al oltre ovviamente al lavoro alle passeggiate che intrapendevamo ma soprattutto allo stare tutti insieme l'aver conosciuto nove persone meravigliose cascate sicuramente la neve anche le città sono molto carine vabbè tipo bled è stata la mia preferita ci siamo organizzati anche per conto nostro per visitare diversi paesini città non paesini tipo cammick allora nel mio caso personale ha coperto l'85 per cento delle spese di viaggio per il semplice motivo purtroppo trovandoci in questa particolare condizione siamo stati costretti a fare degli scali tuttavia una copertura pressoché totale e oltretutto settimanalmente l'organizzazione ci forniva del denaro circa 5 euro al giorno ossia 63 euro settimanali per per il cibo e per i vivi sostanzialmente c'è stato rilasciato il certificato dove abbiamo praticamente ci sono le cose che le attività che abbiamo imparato a svolgere la principale le competenze che ho fatto in questo periodo sicuramente il self control poi vabbè a parlare un po' di inglese qualche parola di sloveno adattarmi vivendo con nuove persone cercando di venire in conto un po' a tutti anche a gestire magari appunto come ho detto che è quei soldi che ci davano che si conoscono nuove persone si migliora o si farà l'inglese e basta spero che qualche mio amico sfrutti questa opportunità e decida di partire